Ridurre il fenomeno del randaggismo in città ed incentivare le adozioni di cani randaggi sono questi alcuni degli obiettivi da raggiungere attraverso un protocollo di intesa. Protocollo al centro dell'incontro tra l'assessore alla tutela degli animali e il randaggismo Felice Dierna, il comandante della Polizia Municipale di Caltanissette e la sesta commissione consigliare. Sarebbe dunque in dirittura d'arrivo il protocollo che dovrà poi essere approvato in giunta e che è stato elaborato anche a seguito di incontri avuti con le associazioni animaliste. Il primo punto è che il comune possa una volta effettuato il trasferimento nell'attesa scuola elementare del comando della Polizia Municipale mettere a disposizione un ufficio dove segnalare tutti gli interventi da parte del cittadino e dove sarà occupato da dei volontari che sicuramente metteranno a disposizione delle persone e ringrazio pure le varie associazioni che hanno dimostrato grande sensibilità alle associazioni animaliste. Il secondo punto importante è che il comune andrebbe a riborsare per favorire l'adozione dietro ovviamente delle fatture che presenterebbero chi vuole ottenere un cane e quindi anche gli stessi componenti delle varie associazioni proprio per favorire queste adozioni che riteniamo che sia un passo importante proprio per azionare il randaggismo della nostra città. Un altro fatto anche molto importante, non di minor conto, è che come comune metteremo a disposizione dei terreni per chi, come tante associazioni che operano in questo settore, volessero fare richiesta al comune di avere in affido un terreno proprio per le cucciolate, le cosiddette cucciolate che oggi come oggi vengono abbandonate nelle nostre strade cittadine per poi essere portate al ricara appunto al canile. Siccome appunto il ricara non dovrebbero andare a finire i cuccioli e quindi l'intenzione è di dare questo terreno in modo tale che le cucciolate abbandonate possono essere ovviamente curate, possono essere gestite presso questo terreno che, come ho detto, le associazioni potrebbero richiedere. Un altro aspetto anche importante, ritengo fondamentale, sia proprio come tutti, diciamo, le associazioni che abbiano collaborato e di cui ringrazio ovviamente tantissimo tutte le varie associazioni, ma anche e soprattutto l'ASP perché successivamente andremo a fare un protocollo di intesa con l'ASP, ASP che effettuerà e si riaprirà a Contrada Buccelli, chiusa da un paio di anni, proprio dove in Contrada Buccelli si andrebbero a fare l'esternizzazione delle colonie feline dei gatti perché è stata istituita a Catanissetta la prima colonia felina, ma anche dei cani randaggi dove i veterinari dell'ASP hanno assicurato i loro interventi proprio per cercare di tamponare, cercare di dare delle risposte sicuramente a questo fenomeno che ci sta assunto dei rilevi molto importanti e di cui ovviamente ne stiamo tenendo conto.